Allora, questa proprietà fa parte di una grande proprietà che era della mia famiglia dal 1700 e che poi è rimasta una tenuta di 6 ettari, di cui 5 ettari sono stati ricoperti da lava nelle eruzioni del 1906. Quindi questa che vedete, questa pineta e quella che sta dietro quella casa, sono praticamente delle zone dove non è stato più possibile poi coltivare. Mentre nella parte centrale c'è tutta una striscia di terreno, quindi sabbia vulcanica che si è, diciamo, frantumata ed è rimasto come terreno disponibile dove c'è la coltivazione. Qui, diciamo, io sto facendo un'azienda modello, mi piace dire modello Etna. Per me, diciamo, la regione più bella che ho visto e ho girato un po'. Nel senso, io ho lavorato in Nuova Zelanda, Australia, in California. Dove in California? In Napa, a Napa Valley, da Cake Bread Cellar. Chiaramente io faccio un percorso particolare perché io nasco come enologo. ho laureato all'Università di Firenze e quindi insomma affascinato da un altro tipo di mondo del vino rispetto a quello che mi piace oggi. Ho lavorato in aziende molto belle, con stile diverso a quello che diciamo che io oggi faccio riferimento, chiaramente. Cake Bread Cellar è una bellissima azienda con uno stile, insomma, lo stile classico della Napa Valley, legni nuovi e tutto il resto. Mi avvicino al mondo dell'artigianato, al mondo del vino naturale, poi alla fine faccio venire fuori le mie passioni che sono l'arte. A me piace dipingere, mi piace suonare la chitarra, quindi ho cercato di mettere queste cose a disposizione della mia creatività e anche nella viticoltura sto cercando di applicare questo mio modo di essere. Cioè praticamente con l'impianto ad alberello è un po' una trasposizione di quello che io ho visto sull'Etna e dico sarebbe perfetto farlo anche qui sul Vesuvio, poi senza scendere troppo nel tecnico. Questa che vedete è roccia del 1906 che è diventata solida. La roccia, quindi la lava, è un poco come l'acqua, cioè se l'acqua si raffredda lentamente solidifica e diventa ghiaccio. Se si raffredda di botto rimane mare atteriale amorfe e diventa come la neve. La stessa differenza che c'è tra un congelato e un surgelato fondamentalmente. Quindi se la lava si raffredda di botto rimane sabbia vulcanica perché fondamentalmente non ha avuto tempo di cristallizzarsi in una maniera ordinata e noi la possiamo coltivare. Se si raffredda lentamente è un disastro, è considerato un disastro perché è perdita di terreno utile per la coltivazione. In questo caso questo ha preservato questa zona perché è rimasta boschiva. Ora io ho avuto un incendio balordo nel 2016 perché delle persone sono venute a fare un picnic a ferragosto lasciando la fornacella accesa con i carboni dentro e si è bruciata mezza venita. Io sto ripiantando querce, sto mettendo tante quercette che me le vado a prendere in giro nelle zone troppo fitte e me le sto mettendo sotto. Quindi sto recuperando tutta questa zona qua del bosco. Un po' alla volta taglio via le piante che sono spezzate. Tutte queste sono secche, cadranno, però io già sotto sto mettendo le querce fondamentalmente. per cercare di preservare tutta la parte del bosco. Il bosco non è solo una cosa bella per la vigna ma è una cosa molto importante. È un serbatoio di fresco. In estate la sera fa scendere il fresco. Quindi quell'escursione termica di cui si parla sempre che è fondamentale per la finezza dei vini. Questo territorio è l'ideale per la finezza dei vini perché sicuramente non è un territorio da struttura perché la sabbia sciolta non fa accumulare tendenzialmente sostanze polifenoliche eccessive. Quindi diciamo, i vini del Vesuvio sicuramente non brillano per struttura ma sono molto eleganti. E minerali. Minerali perché? Perché hanno chiaramente la componente vulcanica che determina poi chiaramente la sapidità, la mineralità di cui si parla. Questo è il piedi rosso, questo è l'impianto più fitto mai fatto di piedi rosso perché il piedi rosso è una varietà che si dice che vuole una potatura lunga. In realtà io dico che il fatto che produca poco sia la conseguenza della potatura lunga e quindi non sia la causa del motivo per il quale poi si faccia la potatura lunga. Questo andrà in produzione tra quattro anni. E siamo già, ho piantato già due anni fa. Ci vuole tempo perché quando pianti per costruire un fusto di alberello devi ingrossare e cercare di avere una struttura più grande possibile. Quella casa è mia, la fece costruire il nonno nel 1943, poco prima dell'armistizio perché poi quando i tedeschi poi di un tratto diventarono invasori, diventarono molto aggressivi. E allora tutta la famiglia se ne scappò qua perché era sotto i pini, quindi non si vedeva neanche dagli aerei. E per alcune settimane la famiglia è stata nascosta qua perché quando arrivarono i tedeschi a Bosco del Caso fecero abbastanza razzie, facevano stupri, facevano cose non proprio belle. E in quel breve periodo la famiglia scappò qua e questo divenne ornifugio. Stai a cinque minuti dalla metropoli però sei fuori dal mondo. Chiaramente quello che vedete è il segno dell'incendio del 2017 che ha distrutto una quantità di bosco spaventosa, veramente una storia triste. Ah poi sto per creare un lago, un laghetto, uno stagnetto diciamo per lo sviluppo un po' di insetti antagonisti. E poi che altro? La cosa bella è che qua ci sono queste aquile che sono le poiane che si mangiano i conigli. I conigli poi erano una delle fonti di maggiori danni sulla vite e da quando poi il bosco è stato preservato dal lente parco si sono reinsediate qua le poiane e le poiane hanno cominciato a mangiare i conigli e quindi non abbiamo il problema dei conigli che era una piaga molto grande. Grazie a tutti.